l'usbio c'è una serie di 74 questo qua è un ennesimo video di bio 2 e sono in compagnia di johnny beckham siamo contro no davvero eh si scusa sei di là e poi così adesso tammazzo ma tammazzo ma tammazzo ma tammazzo ma sai cosa vuol dire che che chiaro ma sai cosa vuol dire no 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 finisci spiattellato come una cacchetta da sole perchè arrivo io con una demolitrice ma sai quanto campero io sta mappa ma sai quanto campero? no no so delle postazioni so so degli spot mamma mia qua sono arrivato ad avere l'elicottero tipo quelle merda a te lì sono arrivato a cadere tante di quella roba qua però un bel dragonfire diciamo che non mi dispiacerebbe eh sto ricaricando ma quel lì è il suo emblema non si capiva cos'è muoviti oppa la la hitmarker paura dove sono tutti ma quello lì ma quello lì cosa si fa a fare? un bagno in piscina? muori accidenti mi ha ucciso sempre la stellina rosina uffa no no ma ucciso come? ma ucciso mi muovo dal camperare ecco appunto l'ho detto e mi hanno ucciso ahahah accidenti no ma vai ma sempre lui mister cool mister cool che poi c'ha un emblema una rosina una stellina ma a cagare mister cool che poi c'ha un cool per uccider la gente che guarda ha rotto le balle quello lì veramente nooo ma perché uccidete me svideo ma vai a cagare aiuto cioè ma vedi te se mi devo fare uccidere da svideo ahahah e beh ogni tanto anch'io posso uccidere la gente dai su questo non ci piove però no che è stato? nooo io te nooo te nooo vendetta non mi dovevi uccidere aiuto 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 ma ancora no eh si svideo si eh no 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 non va bene non va bene non va bene se qui c'è un bacon lo bisogna ammazzare chi è questo? aia nikki pt si si va beh questo è dio chi è? che lavoro che lavoro io voglio ammazzare beco ma dove non lo so aia oh mi uccide sempre questo non c'è più ove ma che è la stellina? no la stellina semmai ce l'hai contro tu ah ah giusto e questo era camperato ah uuuuuh mua stronzezza vomitano no se è stronzo però eh cioè se mi fai una kill così è proprio stronzi cosa ti fai? mi fai goder la kill appena fatta e poi dopo un po' utelli aiuto paura 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 avanti muori ho fatto il miss market andiamo andiamo ma sto laggando Perché ti vuole rompere le palle Eh beh ma ci è riuscito Che bene Chi è che ho cercato? Sbam Mori Eh Eh svideo Non hai tenuto duro Ma cagare Ma cagare Ma vedi se si deve intrippare il mouse Sto raggando come pochi Veramente Saniamo le scaaaala Aiuto 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 chi è T'ho preso No e chi è questo No stellina rosa ancora Quella cosina maiala Uffa Quella lezza No mio dio ma questo qua ha volato Che c'è qua No hai fatto l'ultima a te Hai fatto l'ultima in doppia Guarda 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 qua Hai fatto l'ultima in doppia Bellissima bellissima Poi l'ha fatto I believe I can fly Hai visto l'ultimo che è volato Sì sì Che c'è Grazie.